Pressione in temporaneo aumento sull'Italia per l'espansione verso est dell'anticiclone delle azzorri. In Toscana martedì 5 aprile sereno poco nuvoloso, locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino, venti deboli occidentali con rinforzi di mestrale sulla costa nel pomeriggio, mari poco mossi, temperature minime stazionarie e un lieve calo, massime insensibili aumento. Sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso, a Lupe sulla Piana temperatura minima 1 massima 16 gradi, a Castelnuovo Garfagnana e zone montane minima 0 massima 16, a Viareggio sul litorale minima 5 massima 14 gradi. Mercoledì graduale aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso con precipitazioni generalmente deboli dal pomeriggio.